Siamo all'Oasi di Pagliare, etapa intermedia della camminata dei Santi, organizzata il 17 gennaio da Unione Sportiva Acli, Marche e Comune di Monsampolo del Tronto. A metà percorso, partecipanti di ogni età, stanno arrivando al centro di educazione ambientale oasi di Pagliare del Tronto. Attività fisica per combattere l'obesità, la vita sedentaria di tutti i giorni, ma il progetto della camminata dei Santi che si svolge anche in altri centri del territorio regionale serve anche per favorire iniziative di socializzazione per cittadini di ogni età.